Il mare di Pesaro. Questo tratto di Adriatico consente di godere lo spettacolo di due dei pochissimi promontori dell'intero litorale, come San Bartolo e Lardizio, e di calarsi nelle spiaggette isolate e tranquille. L'ideale per le famiglie o per chi desidera riposarsi lontano dal frostuono e dal turismo di massa, oppure approdare a quelle di sabbia fine, più frequentate, ma dall'atmosfera garbata e animata da mercatini, spettacoli, manifestazioni enogastronomiche. La spiaggia si sviluppa per 7 chilometri, tra litorale attrezzato e libero. Più di 100 sono le strutture di accoglienza turistica, alcune aperte tutto l'anno, tra alberghi al mare, in centro e collina, agriturismi, campeggi e appartamenti, per un totale di quasi 11.000 posti letto. Dal 2010 Pesaro dedica ai più piccoli la mezzanotte bianca dei bambini, l'evento di punta della programmazione turistica estiva. Grazie per la visione!